E' una pandemia nella pandemia, quella che costringe la regione Abruzzo, causa variante inglese e conseguente esplosione dei contagi, a dichiarare zona rossa le province di Pescara e Chieti per i prossimi 14 giorni, mentre la regione viene classificata zona arancione dalla cabina di regia nazionale a partire da domenica. E' l'area metropolitana la più problematica, ragion per cui sotto il consiglio delle CTS regionale si è deciso di imporre nuove restrizioni, prima che l'RT, ora a 1.22 tra i più alti d'Italia, secondo solo a quello della provincia autonoma di Bolzano, schizzi ancora più su, gravando su un sistema ospedaliero già in crisi, soprattutto a Pescara. La variante inglese del SARS-CoV-2 è probabilmente destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi, anticipa il Ministero della Salute, ma l'Abruzzo ne sta già sperimentando la contagiosità. Infatti i dati continuano ad essere pesanti, soprattutto se si guarda alla crescita dei ricoveri e alla molle degli attualmente positivi. Nelle corsie Covid ci sono 507 pazienti, più 5 rispetto a ieri, e 53 sono in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri, ma con 6 nuovi ricoveri, mentre 10.497 persone, più 178 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 11.057 e crescono in tripla cifra. I nuovi casi di coronavirus accertati dai tamponi delle ultime 24 ore sono 357, il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari al 4,2%. I decessi invece sono 7 e riguardano persone di età compresa fra i 63 e gli 83 anni. Numeri preoccupanti, insomma, che devono suggerire la massima cautela e che stanno spingendo diversi sindaci, al di là delle decisioni nazionali e regionali, a chiudere le scuole ultime in ordine di tempo, le città di Bolognano e Chieti. Nel capoluogo le elezioni sono sospese fino a fine febbraio. Intanto, sul fronte vaccini, la buona notizia è che sembrano essere efficaci anche contro il virus mutato, secondo quanto affermano Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. E mentre è iniziata la somministrazione del vaccino AstraZeneca a sanitari e forze dell'ordine, molte regioni, tra cui anche l'Abruzzo, stanno studiando come riuscire a finanziare il vaccino anti-covid italiano Reitera, ancora in fase di sperimentazione. L'obiettivo è di riuscire ad avere una preventiva produzione industriale scommettendo sul risultato positivo della sperimentazione, che sembra dare buoni risultati. Abbiamo appreso in maniera informale, dice il presidente dell'Aggiunta regionale abruzzese Marco Marsilio, che l'importo richiesto per far partire in maniera più veloce una fase di pre-industrializzazione si aggirerebbe intorno ai 16 milioni di euro. Se fosse così, conclude il presidente, sarebbe un impegno modesto da parte delle regioni. Grazie. Grazie.